Dopo la via, c'è una via che avevi 18 anni, è stata dal 38, tre anni dopo, dal 41 a scoppiare la guerra, a scoppiare la guerra i giapponesi a bombardare per l'arbor e allora americani, l'era il mese di novembre del 41, il 42 di maggio in Maklamah, i soldati, il giammino, c'è stata lì in Maklamah e gli hai fatto tre anni e mezzo di guerra, gli americani, tre anni e mezzo. Non mi andai in India, sono stata in India, Birmania, stanno in Birmania più che altro, che era un aeroporto lì, no? E noi altri, siccome a me eri in tal corpo della, che stia dispo, artilleria costiera, costartilleria, costartilleria, artilleria costiera aerei. E allora il nostro corpo è la metto intorno all'aeroporto americano per salvare, insomma, per proteggere gli aerei, no? A tutti gli hanno un mio. Insomma, io li hai fatto tre anni e mezzo.